se stufo del tuo moderno e costoso spirapolvere che spaventa gli animali di casa se stufo di dover cambiare di continuo gli accessori per fare una pulizia accurata se stufo di doverti spostare di continuo per accendere e spegnere se stufo che la presa si stacchi e ti interrompe il lavoro se stufo che il filo si attorcì lo devi sciogliere di continuo da sedie mobili se stufo di dover sostituire di continuo i sacchetti pieni di polvere se stufo che stia facilmente in piedi da solo impedendoti di sapere quando è il giorno della verticalità dell'asse terrestre se stufo di dover riavvolgere il filo e non è sempre facile utilizzo una scopa è silenziosa ecologica costa poco la puoi usare pure durante i blackout ma soprattutto puoi farci il gioco della scopa dritta scopa ci metti un sacco di più ma tanto hai tempo